Capisco molto bene la frustrazione che comporta essere risvegliati in questa scellerata realtà che ci circonda. La frustrazione di conoscere la verità dopo aver visto tutte le prove, la tristezza, la delusione, la rabbia e la sensazione di essere troppo insignificanti per fare qualsiasi cosa al riguardo. Per quelli che come noi hanno scelto di percorrere il duro sentiero della realtà, mentre prima si viveva nella bolla dell'illusione indotta dai mass media, creata per noi dai nostri dominatori criminali, in questo momento l'angoscia mentale può sembrare veramente difficile da affrontare, soprattutto considerando le reazioni, quando non gli insulti, che siamo soliti ricevere nel momento che proviamo a consigliare ed informare quelli a cui teniamo di più dell'incubo malvagio che è inagguato proprio fuori dalla loro bolla. È come se non volessero sapere quello che abbiamo capito. Il risveglio è qualcosa che deve essere autoindotto, non è che non vogliono sapere, semplicemente non vogliono saperlo da te. Quando scoprono che la nostra intera società è tenuta in piedi grazie alla corruzione politica e che tutto ciò in cui abbiamo creduto è una grande ed enorme menzogna, la maggior parte delle persone sembra preferire e continuare a vagare per la loro propria strada da sole, almeno fino a quando l'intera parte dell'accettazione non viene affrontata. Allora è tanto meglio e per loro va bene così, ma fino a quando qualcuno non sceglie di far scoppiare la propria bolla da solo, da sola, niente di ciò che gli dici riuscirà mai a penetrarlo, a persuaderlo. Pertanto quello che ho scoperto essere la migliore tattica, quando si tratta di risvegliare gli altri, all'inizio è semplicemente starmene quieto e tenerlo per me. Ed è allora che accade la cosa più strana, che le persone iniziano a incuriosirsi e quando iniziano ad incuriosirsi iniziano a fare domande. Quando chiedono di solito sono pronti ad ascoltare la tua risposta ed è questo il momento migliore dove può inserire un paio di argomenti nella loro bolla. La maggior parte delle persone crede solo a ciò che sente meglio vede al telegiornale della sera, quindi lasciale lì in modo che facciano le loro ricerche da sole. Torneranno una volta che avranno affrontato la parte dell'accettazione. Sono arrivato alla conclusione attraverso questi miei anni di ricerca che il risveglio di massa detiene tre gruppi o tre punti di vista. Gruppo numero uno, i risvegliati, che sono anche la minoranza. Sono le persone che hanno raccolto le informazioni per come stanno le cose e dopo aver fatto le ricerche su molteplici argomenti e dopo aver esaminato attentamente tutte le prove, sono giunti alla conclusione che in effetti siamo vittime di una massiccia ed intensa cospirazione di manipolazione assolutamente malvagia. Quella stessa cospirazione scelerata di cui il 35esimo presidente americano John Fitzgerald Kennedy ci aveva messo in guardia nel suo discorso sulla società segreta nel 1961. Quella stessa cospirazione malvagia si è protratta ed è stata portata avanti per generazioni da una manciata di persone, l'élite, che si è autoeletta come la classe dirigente. Queste famiglie estremamente benestanti sono state totalmente responsabili dell'istigazione e dell'esecuzione di quasi tutte le principali tragedie di guerra, di attacchi, di assassini, di rovesciamenti politici, di crisi economiche ed eventi strategici nel mondo intero, di tutta la nostra storia. Queste persone controllano i nostri sistemi finanziari, i nostri governi, la nostra politica estera, tutti i nostri principali media, pertanto il nostro mondo e lo controllano da dietro le quinte attraverso organizzazioni come la commissione trilaterale, il CFR ovvero il codice dei regolamenti federali, le società segrete come il gruppo Bilderberg, Skull & Bonds, gli Illuminati e i massoni, solo per citarne alcuni. Una volta compreso questo, il gruppo 1, siamo completamente consapevoli e risvegliati sulle loro attività criminali, quelli dove stanno tirando i fili dei burattini politici, vale a dire quelli che chiamiamo i nostri governi, perché sappiamo vedere le cose per quello che sono veramente. Poi c'è il gruppo 2, i fragili di mente. Questo gruppo rappresenta le pecore del nostro mondo, quelle che hanno scelto di farsi dosare senza reagire. Sono troppo ignoranti o troppo emotivamente deboli per accettare la dura realtà della società in cui viviamo. Pertanto chiudono gli occhi davanti all'evidente corruzione e si rifiutano di riconoscere o addirittura vedere l'enorme quantità di prove inconfutabili solo perché non glielo hanno fatto vedere al telegiornale della sera. Ora alcune delle persone di questo gruppo, in fondo, sono in qualche modo consapevoli della verità, ma ne negano l'esistenza, perché alla fine dovrebbero accettare di dover rivalutare completamente il loro modo di pensare e la loro comprensione di base sulla realtà dell'inganno generale. Gruppo 3. I colpevoli. Queste persone sono i criminali, i doppio giochisti e i bugiardi. Sono i nemici diretti dell'umanità intera. Non hanno alcun standard di moralità, nessuna sostanza o integrità. Sono colpevoli di tradimento e molti altri crimini. Corrompono intenzionalmente il flusso di informazioni veritiere in modo da creare confusione riguardo a chi come me cercano di portare la verità e la comprensione. Sono il cancro dell'umanità. Comunque penso che ci stiamo costantemente avvicinando al punto in cui le persone risvegliate alla fine saranno più numerose degli ignoranti e dobbiamo fare del nostro meglio affinché ciò accada, perché quando i consapevoli diventeranno la maggioranza, saremo finalmente in grado di agire. Ma fintanto saremo in minoranza, qualsiasi tentativo di mettere in atto qualsiasi tipo di azione verrà rapidamente soppresso dalla maggioranza. Quindi la strategia più efficace che abbiamo in questo momento è far scivolare uno o due fatti alla volta dentro le bolle di più persone possibile e lasciare che la natura umana faccia il suo corso. Mai prima d'ora comunque ho visto così tante persone accollarsi il peso per cercare la verità sui veri governanti che hanno e che stanno manipolando i nostri governi, che hanno e continuano a rubare la nostra ricchezza. Governanti che ci hanno mandato a morire in guerre inutili, create solo con la propaganda. Siamo gli unici col potere di porre fine a questo regno del male. Quindi andiamo avanti e mostriamo a tutti la luce. Stiamo uniti e teniamo unita tutta l'umanità insieme per liberare i nostri desideri di verità e di giustizia e insieme poniamo fine al nuovo ordine mondiale. Grazie a tutti.